Ai ai ai, qua si prende male, bene, ecco forse adesso va un po' meglio, allora qual è la situazione dopo 60 giorni di crisi di governo? La situazione è molto semplice, cioè è molto complicata, è esattamente quella che avevamo visto il 5 marzo, e cioè che non vi è una maggioranza. Questo oggi, rapidamente, è un po' in ritardo rispetto al consueto, parlerò di tre cose, free speech, situazione politica con addendum PD, che è cosa successa direzione del PD e poi Fico, che vuole querelare. Devo dire che c'è anche una bella storia di Nardella sulle case popolari e anche la Lucarelli su De Magistris. Questo, diciamo, è il sommario che faccio oggi per la rassegna stampa, la zuppa di oggi, e mi hanno spiegato che bisogna prendere un po' tempo per avere ascoltatori per la diretta. Ma andiamo subito sulla crisi di governo. Buongiorno Amedeo. È molto semplice, lunedì Mattarella riconvoca tutti quanti i partiti e cercherà di capire da tutti i partiti se riesce ad arrivare a una soluzione. Altrimenti la parola oggi su tutti quanti i giornali è governo di tregua, un personaggio che verrà scelto da Mattarella e che dovrebbe portare quindi a una pacificazione tra i diversi schieramenti che utilizzano i veti gli uni con gli altri. Devo dire che in questo caso Di Maio ha il veto nei confronti di Berlusconi, Salvini ha un veto nei confronti del PD, il PD ha un veto nei confronti del Movimento 5 Stelle e della Lega. Quello che vuole andare a tutti i costi a governare mi sembra Berlusconi che accetterebbe sia il PD, sia la Lega, sia il Movimento 5 Stelle. I fan di Silvio Berlusconi dicono che è un gesto di responsabilità, quelli un po' meno fanatici della politica berlusconiana dicono che governare per lui è condizione essenziale e vitale perché non gli scippino le aziende. Queste sono le due posizioni rispetto alla situazione attuale. Il governo di Tregua ce lo potremo aspettare dunque la settimana prossima, però una domanda mi viene da fare, ma se il governo è di Tregua deve essere votato da un Parlamento e il Parlamento abbiamo visto che non vuole votare Di Maio perché Di Maio non viene votato da una grande parte del centrodestra e allora perché non Salvini che si sta candidando a un preincarico perché una parte del Movimento 5 Stelle non vota Salvini se c'è dentro Berlusconi. Ma cosa avrebbe come vantaggio questo personaggio politico fuori dai giochi per trovare i voti sia del Movimento 5 Stelle sia della Lega? Allora mi chiedo se questo personaggio è così favoloso perché non l'avevamo individuato prima o e ancora mi chiedo se conviene fare una ricerca dei voti uno per uno in Parlamento facciamolo fare a Di Maio che ha un bel gruzzolo di voti parlamentari già suo o a Salvini che col centrodestra mi sembra che abbia un bel gruzzolo di voti anche suoi. Insomma questa è la solita solfa italiana per cui bisogna trovare una tregua e un personaggio cosiddetto super partes che ha come caratteristica fondamentale quella di non essere stato mai votato da nessuno. Panebianco o giorni scorsi scriveva un po' ridicolizzato e inutilmente da Travaglio che in realtà i veri governi forti vengono fatti da magistrati e altri amministratori di questo Paese che decidono per tutti. Oggi a proposito di Travaglio lo sfottò come tutti i giorni fa Travaglio nei confronti del PD che da una parte Travaglio vuole che faccia l'alleanza con il Movimento 5 Stelle dall'altra oggi al segretario Martina che ieri ha detto dopo una direzione che non ci sarà il governo né con il Movimento 5 Stelle né con la Lega di Salvini e loro faranno posizioni allora riesce a scrivere, lo leggo perfettamente, Martina c'è sempre qualcuno che si siede sopra di lui al cinema perché è totalmente irrilevante. Allora l'attacco diventa sempre e comunque personale, è sempre uno stronzo quello che non la pensa come Travaglio. Beh questa è una cosa secondo me di un giornalismo diciamo volgare ma anche io sono esperto in volgarità non è che mi tengo dietro però insomma pensare che l'avversario sia sempre del momento sia sempre e comunque irrilevante un minus abens, un fenomeno, un genio, un servo, un vigliacco, un delinquente, un farabutto e questo è il giornalismo che ci piace? Beh forse sì, a me non piace per niente neanche nei confronti di coloro che non condivido e sapete quanto posso essere aspirino nei confronti di chi non condivido ma il punto non è trattarli come se fossero dei minus abens proprio perché non li condividi. Altra questione ma non voglio fare troppe polemiche Fico e la querela che ha pensato di fare nei confronti delle Iene. Io starei un po' attento anche perché questo giornalista delle Iene che ha fatto questa inchiesta e che viene definito secondo alcuni giornali per una Facebook che poi ha cancellato la fidanzata di Fico come una maiale, beh insomma questo giornalista fu lo stesso giornalista che proprio il blog di Beppe Grillo e lo stesso Beppe Grillo dissero è uno dei rari esempi della lotta contro l'establishment e poi quando l'establishment diventano loro e beh un po' di schizzo di fango se lo devono prendere posto che le Iene come sappiamo negli ultimi anni così hanno lavorato nei confronti di tutti. Puoi condividerli o non condividerli ma quando tu pensi che le Iene fanno quel mestiere probabilmente qualche volta se diventi presidente della Camera ti devi aspettare di essere lindo e pulito e comunque non stare in una casa in cui c'è una persona di servizio che prende 500 euro mi sembra per 4-5 ore di lavoro al giorno e si è della tua compagna come dice lui non è stata assunta da lui ma è cosa dove dire è in nero mia chiunque abbia una persona in nero in una casa di convivenza l'attribuisce alla persona meno importante io penso non voglio essere querelato ma questo è un ragionamento banale che faccio. Stupendo il pezzo del foglio e non solo del foglio c'è anche sul Corriere sì sono di origini pugliese e sebbene le parolacce e l'altra questione che oggi è stupenda sui giornali sono queste università inglesi che non vogliono persone che abbiano posizioni controcorrenti e oggi addirittura il sottosegretario dell'università ha detto guardate care università se la smettete di chiudere le porte a quelli che non la pensano come i vostri studenti che impediscono a chiunque di parlare e quindi non possono parlare gli attivisti anti aborto i gruppi cristiani le femministe transfobiche cioè le femministe che non amano i trans insomma non possono parlare quelli che il sottosegretario all'università inglese ha detto coloro che hanno opinioni fuori moda ma legali fino a prova contraria di essere cristiani e anche essere integralisti cristiani può essere una cosa che non condividete ma mi sembra ancora legale come non essere un acceso femminista è ancora legale anche se dice il sottosegretario può essere fuori moda ma quello che voglio dire è che addirittura vengono multate le università perché questi cretini deficienti e stalinisti degli studenti politicamente corretti delle università vogliono che l'università magari arrivi capito il l'islamista il fondamentalista che stupra come è avvenuto le sue studentesse e lo difende fino alla morte ma non vogliono la lega degli anti abortisti allora io posso pensarla come vi pare a voi ma l'idea che le università siano luoghi di chiusura rispetto a idee controverse mi sembra una cosa da folli bene ha fatto il sottosegretario a lamentarsene incredibile la storia di nartella il sindaco di firenze che vuole mettere più punti agli italiani nell'assegnazione delle case popolari allora mi chiedo ma era razzista salvini erano razzisti leghisti quando dicevano queste cose in tante trasmissioni televisive che io mi ricordo aver fatto prima virus e poi a matrix cioè raccontare del fatto che le case popolari siano sempre state comunque assegnate a persone non italiane quindi le graduatorie facevano sì che gli italiani non godessero delle case popolari per cui la collettività ha pagato le tasse negli ultimi anni beh se lo fa nardella sindaco renziano e secondo me ha ben fatto a firenze beh la cosa passa in secondo piano lucarelli oggi su de magistris sul fatto selvaggio lucarelli dice de magistris leggetemi le sue pagine facebook forse si riferisce anche alla sua inveterata sulla violenza di stato e sulle violenze sui furti fatti nel calcio e dice mi sembra un incrocio tra fusaro che saluto amico mio che conosco bene mussolini e masaniello prendendo un po in giro il sindaco diciamo un po maverick della di napoli va bene un saluto a tutti quanti voi se vi piace questa zuppa condividetela e sul sito nicolaporro punto it vi consiglio oggi un pezzo bellissimo di barbara pontecorvo e che ha fatto appunto per il sito in cui racconta il why il what e non solo il who della grande polemica antisemita palestinese cioè come i palestinesi e i loro capi anche più moderati si siano rivelati dei filo nazisti mettiamola così ciao